Siamo con la dottoressa Alina Selva, dirigente dell'area centri per l'impiego Lazio Nord. Dottoressa, parliamo di questo camper del lavoro che è venuto anche nella nostra città, Civitavecchia. Ci spiega intanto che cosa si intende per questo camper del lavoro, qual è la sua finalità? Allora, nell'ambito del programma GOL, che è Garanzia Occupabilità Lavoratori, la regione Lazio, per avvicinarsi il più possibile ai cittadini, quindi arrivare a tutti i disoccupati, giovani, donne, disoccupati di lunga durata, ha previsto, oltre al potenziamento dei centri per l'impiego, che è uno degli obiettivi che si prefigge in questi anni, anche arrivare, praticamente aumentare la possibilità degli utenti di potersi rapportare con i centri per l'impiego, quindi proprio arrivando anche in quei posti dove normalmente non è presente il centro per l'impiego. Come abbiamo detto, il camper è stato anche a Civitavecchia, quali sono i dati che sono in vostro possesso? Allora, in Civitavecchia, nelle due settimane, che poi sono otto giornate lavorative, in cui è stato presente il camper, abbiamo raggiunto 83 persone si sono presentate, abbiamo stilato tre patti GOL, quindi questi patti che sono finalizzati alla profilazione, sia quantitativa che qualitativa, assessment del disoccupato, per poi farlo inserire in un programma che va dall'accompagnamento al lavoro, alla formazione intensiva, oppure a una formazione per aumentare le competenze, migliorare le competenze già acquisite. Inoltre abbiamo fatto sei assessment qualitativi e poi abbiamo praticamente le caratteristiche degli utenti che si sono affacciati ai camper, che sono stati disoccupati e anche una discreta partecipazione di giovani. Quindi un bilancio di questa iniziativa immagino sia positivo? Noi positiva perché abbiamo anche un territorio abbastanza variegato, che va dal mare alla montagna e quindi poter arrivare anche nei paesini più piccoli, stazionare coi camper, ma al di là di Civitavecchia che è un grosso centro, siamo andati anche in altri comuni più piccoli e abbiamo visto che c'è stata una risposta.